salve ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono luca e oggi siamo su gta 5 una gara in questo caso una gara creata da rockstar e meno male che avviato subito grazie a dio sennò mi tocca tagliare niente godetevi la gara spero che questo video vi piaccia infatti se vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi è gratis e soprattutto ci vuole un secondo a farlo intanto prendiamo un po la partner mettiamoci a posto andiamo a vedere un po gli altri giocatori ok va bene 7 vittorie 65 sconfitte 0 vittorie sconfitte 2 vabbè la gara si è avviata subito tutti con la nero con la nero custom ragazzi sono l'unico con la vaga forse anche uno degli unici con l'auto personalizzata vabbè così facile sicuramente no perché c'è l'aiuto giocatore in coda che non dipende da me bastardo mi ha buttato fuori schifoso e vabbè ragazzi parte il recuperone ci vuol dire ci vuol dire vabbè era bella lunga ci vuol dire ci vuol dire ci vuol dire scusate ok qui intanto abbiamo già visto due della marina salutiamo 1 l'ho visto cadere male in coda ok ok abbiamo già il recupero di qualche posizione no ma abbiamo una tempesta qua davanti sicuramente non è un problema in quanto non è nemmeno personalizzata la luce tanto dai luci dai bimbi questo musico in bozzi bene bastissimo la tempesta lo salutiamo ok ok ma bella mi chiedeva così facile va bene vabbè eccolo vedo il film E recupera un'altra posizioncina Buongiorno No, non mi toccare, non mi toccare, mi ha toccato, bastardo Va bene, intanto sono primo E questa cosa mi va bene, ho perso il controllo della macchina Bello essere da soli e non dover recuperare Stata libera Andatura con calma D'essere sincero una prima posizione è veramente easy Mi aspettavo qualcosa di più difficile Però guardando il livello degli avversari mi sembra tutto Non è possibile Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, quanto rischio, quanto rischio. Va bene. Mi sono salvato. Nonostante tutto quello di livello 7 è in quarta posizione. Un gg per lui. Con i livelli più alti invece stanno ultimi. Vabbè, pazienza. Non mi dire che non ce la faccio. No, non ci riesco. Dai, che schifo. All'ultimo, ragazzi. All'ultimo. La cagata all'ultimo la devo fare. Per prendere il car boosting. Ora devo veramente... Andare con un cane. Ciao, bello. Io non ti ho toccato, eh. Sbando da te e da solo. Vabbè, io pensavo che ci mettevo chissà quanta fatica a recuperare il tizio. Anzi, tutto al contrario. C'è un'altra cosa. Non ce lo tiene. Ma dubido che mi recupera. Gli ho già dato 4 secondi. E amore, non fa la stessa cagata di prima. Ok. Qui una piccola acrobazia. Attenzione, se il passo è in volo. Attenzione, se il passo è in volo. Questo non mi sembra proprio fortissimo. Vabbè, proveremo passato. No, non è vero. Dio. Ok. Ci faccio acrobazia? Sì, io voglio. Il tizio dietro di me è il best stunter ever. No, meglio non farla acrobazione. Vabbè, al secondo gli ho dato 15 secondi, ragazzi. Vittoria easy. Anche se dovessi sbagliare, non mi recupero. Ciao. Ragazzi, veramente una vittoria facile. Niente di che. 13 minuti di gara. Sarebbe durata di meno se non ci fossero 5 giri. Minchè vorrei vedere se riesco a doppiare l'ultimo. Questo qui. Sì, ce la faccio. Bella. Quanti ne avrò doppiati? Quello con la tempesta... Eh, abbastanza. Vabbè, ragazzi. Niente, che vi devo dire? Spero che questo video vi sia piaciuto. Una gara abbastanza lunga, devo dire. 13 minuti di gara. Comunque, sì. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. Lasciate un like se il video non vi è piaciuto. Perché per me è veramente importante. Iscrivetevi perché è gratis. E soprattutto ci vogliono 0,1 secondi a premere quel bottone rosso. E niente. Che devo dirvi? Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.